Incontro di monitoraggio con le scuole del territorio coinvolte nel progetto Paesaggi Futuri della Città Educante è stato quello che si è svolto lo scorso 20 maggio all'interno del Museo di Pitagora. Cinque gli istituti coinvolti nell'iniziativa che è servita a fare il punto della situazione rispetto agli incontri svolti nei singoli istituti durante il corso dell'anno scolastico. Abbiamo finalmente messo insieme tutte le scuole che hanno partecipato del territorio per trarne un prodotto finale per la cittadinanza cioè ovvero trasformare il quadro di Crotone in una vera e propria composizione musicale per il tramite delle scuole quindi a tutti gli effetti un'attività di service learning utile alla cittadinanza. Musica, disegni e video hanno fatto da cornice ad un incontro che è stato l'evento di apertura del Festival delle Catastrofi e Paesaggi Generativi fortemente voluto dal Consorzio Jobel. Il progetto ovviamente ha avuto inizio nel mese di ottobre con degli incontri fatti in ciascuno degli istituti partecipanti e in seguito i ragazzi sono stati portati fuori dalle aule scolastiche, fuori dal dispositivo scolastico per fruire dei percorsi didattico-educativi sul territorio crotonese. Quindi abbiamo testato questi percorsi con le scuole e con la cittadinanza e in ultimo abbiamo dato musicalità a questi itinerari geologici, geoambientali, turistici a tutti gli effetti. Gli istituti hanno lavorato per mesi con il sostegno degli insegnanti alla scoperta delle meraviglie che il territorio crotonese offre. Nella mattinata è stato poi presentato anche un lavoro fatto dal liceo Gravina, dagli studenti di liceo Gravina che sta partecipando al concorso Giovane Geologo, un geologo è per la vita, la seconda edizione, con un brano il canto delle pietre che è frutto della creatività degli studenti a partire appunto dalle pietre del territorio crotonese. Infine fulcro di questi mesi di lavoro sono state le sinfonie composte dai diversi docenti di musica delle scuole ed eseguite e registrate dagli studenti. Ci siamo dati quindi appuntamento per l'evento finale dopo questa giornata di monitoraggio che si terrà nei primi giorni del mese di giugno, quindi prima della conclusione dell'anno scolastico.